vediamo come preparare un cavallo per montarlo la prima cosa è mettere in maniera corretta la copertina sulla schiena del cavallo si posiziona giusto nel mezzo della schiena dopo aver messo il sottosella prendiamo la sella e cerchiamo di sellare nel miglior modo possibile il cavallo poniamo la sella sulla schiena controlliamo che la copertina non faccia pressione sul garese prendiamo sotto pancia sempre dalla parte sinistra cinghiamo il cavallo leggermente senza esagerare nel tirare le cinghie le cinghie vanno tirate poi successivamente grazie a tutti